Ragazzi, è uscita la compilation Emergenti in prima linea, volume 1, prodotta da Sony Music Sale Prova. I gruppi della compilation sono tutti artisti emergenti. Dai voci agli emergenti. Acquista la compilation su iTunes o alla Sony Music Sale Prova a Milano in via Cortatone 12. Sei un emergente? Chiamaci allo 0255190673. Presto iniziano le selezioni per la compilation Emergenti in prima linea, volume 2. Cosa aspetti? Chiamaci 0255190673. www.sonymusic.it Ci trovi anche su Facebook.